Oh Calvin, vieni amore! Forza! Dammi la manina, ecco, andiamo! Janet, gli sta perfetta! Grazie! Vediamo? Ho fatto bene a tenerla! Ah-ah! E tu, donna del momento, congratulazioni per la promozione! Ti ringrazio! È grandioso! Darryl ne sarà entusiasta! Ehm, no! In realtà, è rimasto deluso! Bimbo, in braccio! Pensava che gli dicessi che ero incinta! Certo, la nostra donna in carriera che aspetta un bambino! Cosa dite, ragazze? Io voglio avere un bambino, prima o poi! Potresti sfornarne uno fra una conference call e un meeting? Il fatto è che è Darryl quello che mi preoccupa, veramente! Oh, davvero? Di che ti lamenti? Sei fortunata che ne voglia uno! Io ho dovuto promettere queste a Greg! Il piccolino è un acchiappone! L'avranno allattato al seno! Vuoi la pappa, vero? Guarda, diamogli qualcosa! Latte, latte! Tu sei sicura che si possa fare? Non bisogna essere per forza la madre naturale! Latte, latte! Latte, latte! Lasciaciare il latte! Ok! Bevine quanto ne vuoi! Oh, è un tipetto agitato! Avanti! Coraggio, Calvino! Attaccati! Cavolo! Che dolore! Noi andiamo! Domani Nicola...